Presso la sala Monsignor Di Liegro di Palazzo Valentini a Roma è stata presentata la terza edizione del premio internazionale Nassiria per la Pace, che si svolgerà presso il santuario dell'Annunziata di Licusati il prossimo 11 novembre. Il premio organizzato dall'Associazione Culturale Elaia e patrocinato dal Ministero della Difesa, dalla provincia di Salerno, dal Parco Nazionale e dal Comune di Camerota, a cadenza annuale viene conferito a persone che si sono distinte nel campo sociale, in particolare per la loro attività di promozione della pace. Alla conferenza stampa di questa mattina sono intervenuti il giornalista Vincenzo Rubano, presidente del premio, il consigliere della città metropolitana di Roma Capitale Paolo Ferrara, il generale di Corpo d'Armata Agostino Bianca Farina, comandante militare della Capitale e il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano. Per l'occasione è stato consegnato anticipatamente il premio Nasseria per la pace 2016 alla conduttrice televisiva Rita della Chiesa e all'atleta parolimpica dell'esercito Monica Contraffatto. L'11 novembre saranno poi consegnati gli altri premi. Durante la conferenza stampa di questa mattina erano presenti anche tanti studenti dell'Istituto Comprensivo di Camerota. Negli anni scorsi il premio è stato assegnato tra gli altri al comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al presidente della Commissione Difesa Francesco Saverio Garofani, alla memoria del tenente Marco Pittoni, ucciso durante un tentativo di rapina a Pagani nel 2008, e alla memoria del caporal maggiore Massimiliano Randino, ucciso in un attentato a Kabul nel 2009. e alla memoria del caporal maggiore dei Carabinieri,